Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera qui con noi, buonasera già 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 non ci abbiamo neanche stasera, eh? Com'è? Stasera ci debba essere il buon cazzo? Sarà il buon cazzo? Eccoci qua, allora vediamo un pochettino, abbiamo aperto un po' di osine, vediamo se la lab si vede, mostra lettore, vediamo se si vede anche, sì, 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 ora metto un po' di cuffie, oplala, oplala, ni, 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 poi si sistema la wabakama e buonasera al nostro mod, buonasera Ricky, ola, ola, ok, ok, qui posso chiudere, abbassare e andiamo su Fishing Planete, come sento l'audio, burp, va, ora vedremo, ecco, almeno si sente il lato di Dio, sono molto felice Raffaele che domani si pesca, molto felice, molto felice, come va? Quest'oggi ho lavorato quattro ore e basta, però ho fatto un turno un po' particolare perché sono entrata alle 5, ho finito ora alle 9, è un turno spezzato, sì, diciamo, dalle 21 e 20 ero già in l'audio, questa sera ho finito un pochino più tardi dal lavoro, ok, ce l'abbiamo l'audio, sì, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, perfetto, allora, allora, dicevo, quest'oggi è stato un turno un po' così, ma stamani ho finito di preparare, montare, stasera finirò di caricare il quarto video della Specialist Academy, così non l'abbiamo coperti tutti e domani mattina, surbresina, surbresina, domani mattina lavora una cosa che sarà aperta a tutti i patroni compresi, aprendo una comoda applicazione, aspetta, che devo attaccare il wifi, già che ce l'ho, scusate, facendo partire una comoda applicazione, se ce la faccio io, fa la parte perché sono l'incefalitico spungiforme, ah, finalmente, posso scegliere, vabbè, facciamo con questo, dai, aspettate un attimo che sto riloggando perché domani dovrò registrare lo schermo del cellulare, ma vi faccio vedere una cosa carina, guardate un po', che è in anteprima per voi, Morghi, buonasera, sì, si escono sempre alle 15, ma il secondo è già programmato e tutto, il terzo anche, il quarto l'ho fisso di programma stasera, guardate un po' che carina questa, questa ragazzi sarà l'app di itinerari di pesca, se scorrete qua c'è tutto il blog, vedi, diridiri, tutto il bloghettino con le cosine, oppure, cioè vabbè, il supportaci, mano mano aggiungerò le schede e poi c'è questa cosina, poi non se riesco a farvela, andiamo in modalità just chatting, eh, 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 non è che siete tantissimo, però qui ci saranno tutti i gruppi per chatare, intrautaria, spinning, jet fishing, tutte le maggiori tecnici, quindi da una comoda app potremmo parlare di pesca a pesca, però devo ricercare di capire da dove si scarica, ve lo dico domani, per ora ancora non è finito, domani mattina finisco di lavorarci, faccio il video, lo metto come video della settimana per i patroni, poi lo sblocco a tutti e lo faccio vedere a tutti, faccio vedere un pochino in alto prima i patroni, poi lo facciamo vedere a tutti, l'applicazione è gratuita, quindi non c'è da pagare niente, solo chi ci vuole supportare, se vuole, e si possono fare i gruppi, gruppi sono carini, vediamo un po' se riesco a farveli vedere, ma, tipo tenso nel gruppino dello specialist, ci puoi naturalmente arrivare anche da itineri di pesca.net, eh, allora, si è bene il gruppo, si, si, l'acqua divertente analcolica, vedi qui ti si apre il gruppo, con la sua immaginina, eh, c'è troppa luce, è come se fosse un Facebook, vedi, ti ci metti i tuoi post, è come se fosse il gruppo Facebook. Ah, che bello, vero? E poi tutte le info del gruppo, eccetera, eccetera, le regole e quant'altro, secondo me sarà un buon modo per creare il nostro mondo di IDP. Comunque, io mi dico, cioè, perché come vi ho detto, io vi faccio un esempio banale che ho fatto con Caos l'altra sera, no? Perché Caos mi fa, vabbè, ma c'è Facebook, c'è YouTube, vi faccio un excursus, dopo quello che è successo col Covid, dove veramente sono passate delle cose assurde, no? Pensate se domani su Facebook viene fuori che la pesca è violenza sugli animali, e quindi per le regole di Facebook la pesca sportiva non può essere più fatta vedere all'interno del social. Che fine facciamo? Rimaniamo su YouTube, ma siccome i maggiori social di solito si muovono insieme, se questa cosa succede sui maggiori social, che fine fanno quelli che non hanno un proprio sito web? E noi vogliamo creare, appunto, la nostra community, in maniera tale che siamo tranquilli. Allora, ma io ero venuto qua, ma io qua non ci volevo mica sta. Allora, ragazzi, ho fatto i pesci più grossi, non ci crederete con bigattini, oggi ho fatto un'oretta di prova, e ho fatto i pesci più grossi con i bigattini. Allora, dov'era il posto che mi ci aveva messo il marker Caos? Era questo qui? Non si riesce a fare qualche barbettolo. Che siamo vicini ad andar via dal Tevere, eh? non manca, non manca molto. Allora faccio ripartire la giornata. Ah no, aspetta, però posso farla anche se, eh no, se non c'ho le canne, eh, vedi. Ah no, posso far forward next morning. Vai così svuotiamo la NASA e stendiamo. E 3.500, non esageratamente, però abbiamo Tiber Wayfarer 2. Enjoy exploring Tiber in a certain number of days to complete. Vabbè, buono. Un marker, va bene. Eh, ho capito. Mi fai Piscari, mi fai? Ma fa Piscari? Ciuciuru. Quindi da una parte abbiamo Amo del 10 e Bigattini sul piombo, tranquillo. Dall'altra parte invece siamo sempre belli ignoranti e abbiamo la Mall Cricket Larva, Amo del 2.0, che oggi aveva reso, però ora non lo so ora come andrà, eh. Però noi la li mettiamo giù, magari funzionasse ancora. E si è messa lì. Ah, sì, arrivo. Scusami, 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 scusami. Eccoci qua. Scusate. Allora, è tornata la questione, ma Instagram lo lasci o togli pure quello. Per ora Instagram rimane. Instagram rimane. Poi, Nico switcha, non si vede il game, Nico, ci siamo, ci siamo. Ah, scusate. Quindi la questione è che, se i vari social tirassero fuori sta cosa, che la pesca, bla bla bla, eccetera, eccetera, c'è già una cattura sulla canna quella da bolo? No. Eccolo il Bigattini, oh. Bigattino in catturina. C'ho da fare, ragazzi, un rocher, c'ho da fare pescini piccolini, perché volevo finire la challenge del Tevere. Quindi ho messo il Bigattino e l'Amo del 10, proprio perché volevo fare roba piccolina. Un po'. E di là c'è un pesce, che è qui? Vai, ce l'ho il Common Roach. Perfetto. Ora mi manca quella. Dai, prendi la cannetta questa qua con la larva. Guarda un po'. Ma secondo te, no? Ma come non si vede il game? Ora si vede, dai. Ora si vede. Guarda un po'. Guarda un po' con la larva. C'è, al volo, sì, 5 minuti di mattina. A parte forse sta a vedere che mi sono sbagliato, sta a vedere che c'ho... Eh, ti pareva non c'ho il picco alto a quest'ora. Allora, sfruttiamolo, via. Sfruttiamo il picco alto per far più catture possibili. Sfruttiamo il picco alto per far mal più possibile. Guardi invece che mi raccontate, Fave. Ora in questi giorni, per esempio, mi dedicherò molto... Allora, domani mattina finisco sta cosa dell'applicazione, se riesco. Così potete portare con voi tenere di pesca in maniera molto più semplice. Perché comunque già sul sito abbiamo la versione mobile. Però diciamo che vado a restringere il campo lasciando la parte social. Viaggi e queste robe qua non ce le metto nell'applicazione. Non ce le metto, non so neanche se ce le posso mettere. Il concetto è anche quello. E quindi cerco di farvela ver prima possibile. Dopo da lì ricomincio a fare un paio di settimane di lavori pazzi e disperatissimi ad agosto perché volevo portarlo un pochino avanti. Domani vado a vedere gli spot per il Siluro. Buono, Morghi? Buono. Io il Siluro per ora non c'è ancora l'attrezzatura. Però ti dirò, ho fatto un paio di acquisti da Aliexpress. Ieri. Fra ieri e ieri l'altro. Al di là della borsa della Decathlon che avete già visto. Uber. Buonasera Sir Draco. Buonasera Chaos. Sarebbe una specie di mini Facebook. Il nostro social solo di tenere di pesca. Chi vuole viene lì a parlare di pesca con noi. Si parla solo di pesca. Poi se vogliamo aprire altri gruppettini per altre tematiche che può essere Twitch eccetera eccetera. Li possiamo anche aprire. Possiamo fare dei gruppi privati per i patroni. Dei gruppi solo per i... per i sub. Insomma quelle cose lì. Cattura. Cattura, cattura, cattura. Oh, Chaos. Guarda un po' che scaccio. L'ho provata oggi. Mi dicevate, mi dicevate. E invece funziona. Mol cricket l'alba. E viaggia come l'arena. Vada da là. Roba tutta da duchiletti eh. Nulla di... insomma 3,7, 1,9 l'ho fatto ora. Io direi che funziona la larva di mole cricket. E di là invece c'ho il bigattino perché devo fa roba piccolina. Eccolo. Ecco fatto. Shift 2. Shift 1. E vai di qua. E via. Piccolino piccolino. Dimmi che è quel pesciolino microscopico che ho visto prende ma tira troppo. No. Mi ci vorrebbe quel pesciolino microscopico ma non è questo qui. O sì, o sì, o sì. Dimmi che è lui. No. Trofico al Moonroach. Mi ci vuole per il trofeo del... del Tevere. Ora vi faccio vedere. Che già che ci sono mi faccio i vari trofei, no? Chaos. È sempre un buon modo per raccattarcicia. Sul Tevere abbiamo Tevere Exploration. Vedi, mi manca l'European Bitterling. Vediamo un po' come... Come si prende il... Ah, ce l'ho fatta a prendere un barbo, eh? Ce l'ho fatta. L'ho preso col bigattino e la Model 10. No, Chaos. È per te quel gruppo lì. Lo so già. European Bitterling. Come si prende? Duke Balls, Semolina Balls, Bloodworm. Bloodworm. Hmm. O Redworms. Vedi? Però Maggots. Ce l'ho i Maggots. Allora li lascio, vai. Perché voglio prendere quello lì per finire il trofeo. Lo lasciamo, lo lasciamo lì. Nice catch. Ma che vuole la Hatcast 51. Ecco. So. Comunque dicevo, secondo me, ragazzi, quell'applicazione così viene molto carina. Poi si parlava del fatto che dice, ma non tutti ci verranno. Mamma mia, chi viene sul gruppo Facebook o sulla pagina Facebook solo per dare un'occhiata. Cioè, io voglio fare un gruppo di pescatori. Non voglio fare gente che viene a dare un'occhiata così e poi rompe il cazzo. E più che altro voglio creare una casa per noi di itinerari di pesca. Il nostro sito è la nostra casa. L'iscrizione è gratuita. L'utilizzo è gratuito. Che si deve fare? Cioè, io pago 400 euro l'anno fra dominio, sito e tutto. E non lo devo utilizzare? Lo devo utilizzare solo come vetrina? Circa da sopra la community. Così siete sempre aggiornati su tutte le nuove cosine di dp. Anche perché poi smetteremo di aggiornare Facebook. Ci metteremo un bel messaggio. Chi vuole viene di là. Se la vi... Se la vi... Io ho sbagliato. E arrivo, arrivo. Dai, dimmi che è il bitterlino, quello lì piccolino. Dai, 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 dai. Ma vedi come vola. No, è roccia. Oh, forse, oh, forse. Poglie! Voglio quel bitterlino lì. Oh, caossino, come sono fossi di lucca? Ah, scusate, vi dicevo, ho preso un po' che aspettiamo, caos, ci dica dei fossi di lucca. Va troppo veloce quel galleggiante lì, però, eh. Non è che c'è... Lupe Schalirdo attaccato. Eh, infatti! Eh, camminava troppo. Camminava troppo quel galleggiantino lì. Oh, caos, ma guarda come viaggia la Molcricket l'alba. Cioè, guarda come viaggia. Impressionante la Molcricket l'alba. Mamma mia. Già tre catture in rapida successione. Grena! Yeee! Fiesta aperta. No, no! Dicevo, ho fatto un paio d'acquisti da AliExpress, perché la frautaria ormai... Ah, 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 caos. Caos. Eh? È arrivato? Dicevo, eh, è in Russia sempre per i profili di Unic. Vedi? No, io ti dico, sta funzionando bene. Insomma, ti dicevo, ho fatto un paio d'acquisti di AliExpress, perché da spendere una trentina euro a botta, nulla di esagerato. Mi sono fatto tutta la minuteria da carp fishing. Tanto gli ami qualcosa ci avevo, ho fatto tutta quella minuteria che avevo quasi finito, cioè gli sganci dei piombi, tutta quella robina lì. Tanto piombi per ora ce l'ho. Allora lo vedi, caos, guarda, eh. Non ne ero scordato di dirvelo. Perché sono anche quelli che andranno ai patroni. Opla! Ah, 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 sono arrivati oggi. Eh, eh. Allora, se vede, è one. Aspetta, vi metto la schermata grande. One. Aspetta, se lo devo mettere lì, devo mettere a fuoco qui, aspettate. ecco, vedi? Allora. One. Oh. Oh, ci, 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 ci. Ciù. Guarda un po' la marca. Zulinoia, eh. Guarda questo qui com'è, bellino. Scusate, c'è un pesce solo da fidere, eh. Allora vi faccio dell'altre. Raba piccolina, aspetta. Aspetta, vediamo, dopo si finisce di vedere quell'altro. Raba piccolino. Zulinoia, Aspetta la voce, il chichinina. Speriamo sia quello lì, il blind querinderling, quello lì, che almeno finisco la challenge. Mmh. Mmh. No, e un'altra volta la roccia. Ma, vai, vaffanculo. Vabbè, oh, pesta, pesta, prima o poi facciamo una cosa. Provevamo a lanciarne una sotto sponda, vediamo un attimino se se fosse lì. Passa uno con la barca. Ciao. allora torniamo in just shopping poi se come lo riorgo ce l'ho scritto quanti grammi sono non qui però ce l'ho scritto guarda questo qui la lardina certo non costano 15 euro ad artificiale e vedremo quando arriverà la trattaria se venderanno questo qui e che c'è aspetta aspetta ma ancora sotto lì va così aspettate bimbi aspetta un po ancora con morroccio che palle proviamo sotto il ponte arrivo subito bimbi a un metro sotto il ponte allora poi ce l'abbiamo questo qui che è un colorino un pochino più vedi più opaco tutti ad amo singolo poi ce l'abbiamo invece due neroni uno con un becchettino giallo che è questo qui un'inghietta nera che schifo uno è questo e l'ultimo l'ultimo che è arrivato è questo qui che secondo me è valido questo è tutto il colore nooo eh time out potevo fare uno strike sulla larva dormivo dormivo va bene la rilanciamo allora torniamo in gaming ma come si muovono eh questi qui è tutto da provare però a regola dovrebbero essere degli artificiali che si muovono in trautaria vicino alla superficie con un recupero molto 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 lento per trote molto 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 apatiche comunque non ho ancora finito il mio kit da trautaria eh queste sono cosma vabbè queste sono l'ultimo sembra è strano però e comunque di quelli lì c'erano altri due set completi perché saranno gli omaggi dei patroni hub di questi mesi mi sembra ne mandiamo due al mese sono l'omaggino per i patroni hub è un riconoscimentino come sapete chiediamo ai nostri patroni e quelli lì andrebbero ora mi mancano praticamente sai i cranchettini quelli che abbiamo usato anche al cabedano che ce ne è fatto uno con quello bianco li volevo prendere da 3 grammi un pochino più pesanti alla zeta perché almeno vedo un po' meglio c'è qualcosa attaccato eccola la mole cricket larva mamma mia impressionante però questa larva qui eh cioè sataniza io lo sto pescando con quella fila lo vedi è proprio sotto sponda sotto il ponte lo ho messa per vedere se riesca a fare quel pescino il bitterling slipper oh ragazzi è tutta robetta sopra il chile 8 però eh io ho un minamento potrei farli anche mettendolo a fondo ma non c'ho una canna adeguata per quella pesca lì sai che faccio dal mese prossimo dal mese prossimo caos ho deciso che quasi quasi mi dedico un po' di soldini li metto da parte prendo i dlc di di fishing planet ormai ho deciso che sul canale tanto dato che siamo che a chiacchiere per ora farò quasi principale quasi prettamente fishing planet a parte qualche sera se non voglio di schierà e di far qualcos'altro comunque quelli lì andranno anche in Giappone come tutto il resto jitai come ti sei trovato caos con il mulinellino della jitai perché poi ci sarà una sorpresa sul mulinellino della jitai che tanti non sanno lo sapete che chi viene a vedere le nostre live mi vuoi staccare aspetta un po' ah dicevo ci sarà ah eccolo è arrivato caos dicevo ci sarà una sorpresa caos cioè una sorpresa tanti non lo sanno ma il mulinellino jitai e lo diciamo qui su twitch non lo sa nessuno il mulinellino jitai stringiti forte quello che ti hai usato nell'ultima battuta e attenzione caos stringiti forte quell'altro della capaci le due canne da pesca no scherzo non solamente una canna una canna da pesca quella lì non quella che abbiamo usato per i cavedani ma l'altra e il mulinellino jitai sono in omaggio in omaggio in omaggio per chi viene in viaggio in giappone con noi più il porta spoon più un carico di spoon dentro più il filo per i finali più il filo imbobinato sul mulinello la treccia tutto il regalo tutto il kit il kit travel per chi viene in giappone eccolo 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 grande european bitterling preso mulinello che sei mi ci volevi abbiamo vinto ecco la tiber exploration grand fish feeder golden e più 1500 e più monetino e noi sacchi up che sembra male non facess a questo punto possiamo aumentare un pochino la dimensione del lamo allora no si si passo la corcia diamo un po' lamo dal 2,0 dal 10 passo a un 2,0 così vado a qualcosa di un pochino più grande dai come ero qui devo switch alunz quindi ricapitolando per chi viene in giappone e attenzione stiamo creando quest'anno non c'è il pacchetto il pacchetto travel il kit da viaggio per capoverde sarà pantofolina asciugamano maglietta cappellino tutto polo tutto di dp tutto di dp in omaggio in giappone c'hai perché siccome lo faremo a maggio aprile maggio no scusami marzo aprile quindi non viene fatto d'inverno noi lo facciamo quest'anno d'inverno ma dal prossimo viaggio in giappone chaos chi viene in giappone c'avrà maglietta cappellino asciugamano pantofoline da viaggio che bello ha fatto dicevo pantofoline da viaggio canna da pesca mulinello porta spoon spoon trecciato filo per finali e pinze questo è il kit da viaggio di finale di pesca non è quei kit merdosi che vi danno gli altri cioè hai in mente che kit è un kit dal valore commerciale uber 1200 euro di valore commerciale quel kit eccolo eccolo ancora la mole cricket eccola la mole cricket berga altro gattone altro gattone ma va ti ho detto che la mole cricket non serviva vieni vieni no non è un gattone si è un gattone vabbè un chino e 7 buono mettilo lì vai il cirurozzo mettilo là dove lui vuol stare provando un po' di qua ora però sempre lì boom e vedi ha aumentato l'amo nel feed allora è un pochino più più spettucino vedi però insomma si sta riempendo veloce il problema è che dopo si va sul calare vedi quindi si riandrà un pochino più sulla serata però e vabbè sarà però guarda 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 già tocca già tocca guarda che roba guarda che roba l'amor cricket l'arba ragazzi abbiamo trovato l'escona stasera non lo so non ho l'idea non ho neanche cambiato stasera il titolo della live lo cambio poi quando mando il video su youtube comunque tanto c'è già fishing planet impostato ragazzi guardatela che roba cioè berga un chilo e 9,60 danni ora si rilancia impressionante stasera qui mi viene pensato di provarla a mettere una poi a model 2.0 si potrebbe provare ad aumentare un pochino magari un 3.0 ma che livello sei 28 28 già si può girare un pochino piano piano poi 28 vedi si sta crescendo piano piano purtroppo qui pesco tanti pesci che faccio non mi portano sul livello ma mi portano giù non sono in game ma non posso si sono no no sono in game ma non posso entrare nella tua stanza ma vedrai perché non sono io in una stanza in che room sono o entro nella tua però mi dice che vedrai vedi devo levar tutte le hanno messo sta cosa qui che devo levar tutte le canne da da road stand per cambiare stanza non era così una volta eh lago che c'è scritto lì che lago il lago qua qua qui che lago è lago è piena da qua piena da via ma chi c'è un stanza con boh no praticamente mi dice che io per spostarmi devo togliere tutti le cani da pesca ho detto ma ne mi smai e infatti io ero dovuto togliere le cani da pesca le road pod tutte spostarmi distanza se non ti fa spostare distanza prima ti spostavi distanza senza starle va tutto ti riordi ora invece a parte stazione c'è stato un aggiornamento eccola tocchettina tocchettina sulla bolo l'ho vista proviamo a prendere non ci siamo mai e sembra di vista una crocchetta però comunque dicevo che ne pensate di tutto questo ben di dio di kit per chi viene in Giappone non mi sembra poco ragazzi fatti del casino comunque quaking è l'Alaska e non c'è ancora equipaggiato per andare perfetto ci vorrà un pezzo di riuscirci con la ciguiner vero ma ora ci sta che mi faccio un passaggino caos dalle missioni tipo parto da dall'esni villa exploration vedi open the fish menu catch silver brim catch common roach travel to l'esni villa fisheries bidi 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 pira pippo capito e c'è vabbè c'è un monofilo c'è un mille di reward si fa capito allora yeah falcon brown trautex yeah il lago sopra le biglietti appena si trova qualcosa doveva andare ma mai nella vita con la giga e questa volta la mole cricket è arrivata in fondo al suo corso e non ci ha reso una cartola vabbè siamo nella fase bassa però vabbè ci sta ci sta invece il feeder visto col bigattino aumentata la dimensione del lamo se è un pochino sbibanteggiato non un grande lancio ma va bene ci può andare bene non so se il feeder lasciarlo così in attesa e guarda un po' eh no non è vero non è stato dato troppo presto lo strike l'ho dato mentre suonava il campanello però va bene ora sappiamo che col 2-0 col maggot comunque qualche cattura ci arriva e noi rilanciamo lo piombo eccolo ecco la cattura di là allora chebbe sul primo un attimo e chebbe sul secondo mole cricket ancora addirittura è saltata lei vada là vada là vada là vada là questo secondo me è già più grossino riqui è il santura michigan è troppo leggero caos qui si parla di roba interessante con la lava con la larva madonna ma avete detto che un serviva la mole cricket la larva andate a fanculo vai a te guarda roba ho detto oggi la provo a parte ragazzi non provate tante oggi mentre aspettavo che producesse il video il quarto video della specialista academy ho provato anche il gambero ho provato cioè no il gambero via sì il crab insomma il gambero ho provato i pezzi di di scimpanzia insomma ho provato tutto questi pezzi di cosa infatti che interessante boia questo è un aspio però questo qui mi sa che è un aspio mi sa che no è una carpa carpone carpone da 2 kg vedrai sarà carpoide bella 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 carpa 3 kg nuovo personal record di carpa comune per me è soddisfazione bella bella vai mettili nel carpet house adesso ho trovato l'esca per il tevere per me la mia esca da tevere mole cricket lava si si fa si mette anche sul feeder si vede tanto l'abbiamo vinto la quell'altro challenge la 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 mi dite dove volete che io vada e vado dove cazzo mi pare a me come sempre giusto caos la si vabbè heavy for the road your mother is heavy for the road vieni e ora se non posso lanciare una larva una cana da feeder ma via ora non esagerare la ora se non posso tirare una larva con la cana da pesca no sbagliato vabbè facciamo così oh no era in cattura no allora vabbè facciamo così oh le rimettiamo a posto no non è vero non è vero non è vero è di qua la cattura ma è invece è invece madonna ma dai ma la larva così ma che cazzo è ma che bestia di satana è ma guarda ma guarda te dai dai 25 24 23 22 21 20 molla pida l'altra dai 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 serve perfetto se vieni così veloce ci si lavora bene dai dia 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 buono buono chiappa dai 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 sono messa giacché ora si guarda con che sono a te guarda che roba vabbè roba piccina magari però sia fa che si sta fermando a manetta scusatemi ma allora mettiamo quello da due once mai mettiamoci giù ragazzi mole cricket lava the best esca today for tiber per il nostro buon ricky dato che oggi non abbiamo ancora fatto il cane della fratteria ti prende e ti porta via lontano ad adi ciao ma non era nel momento di bassa mamma mia mamma mia la molequiche l'alba madre di dios mamma mia ragazzi quest'esca qui che roba è che roba è ragazzi impressionante e a questo punto caos oserei userei veramente aumenterei la dimensione dell'amo a questo punto se abbiamo questa rapidità di manganza berga altri duchi di sbiffero vai allora usiamo un pochino di più usiamo un pochino di più e ammettiamo una model 40 mai usiamo usiamo un pochino di più eh e di là mi sa che il galleggiantino corre troppo veloce bam infatti dopo c'è un pochino di aggiustare tutto qua dentro ah vai quindi ora se si prende 4 0 magari qualcosa di un pochino più grande insomma questa quest'esca qua oggi è ci ha dato ci ha dato ci ha dato ci ha dato il faricchio bimbi che mi racconta raccontate qualcosa bastardi faccio body wow se mi raccontate nulla faccio body painting occhio faccio vedere i miei capezzolini i miei capezzolini i miei capezzolini sì ma fatti apposta per le minarici eh vedi però con eh 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 guarda il galleggiantino come spettugia no 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 non si è andato a far du lanci oggi caos no che passi con la barca mi schiacci il galleggiante radcas ma guarda questo che gentaccia allora siamo ragazzi a 23 kg alle 7 della mattina buono ma se farmo cos'è eccola eccola la larva eccola eccola la larva sembrava strano che la larva non larvasse morgi ma ce ne stanno attaccate le caccole morgi ci dice della collezione la collezione ragazzi per ora è ferma perché dovevamo fare la serata della collezione è chiusa cosa è chiusa dovevamo fare la serata della collezione che era il sabato sera ma come faccio io a fare live il sabato sera se una volta si fa quando c'era la quarantena eravamo un 2 miliardi mi facevate in cassa sordi donazioni io ho programmato per far quella cosa lì tutti lo siete spariti tutti siamo rimasti 4 gatti buono bello allora però se c'hai il credito facci sapere come l'hai preso un bel messaggino e spiegaci dove come quando perché quando ce l'hai detto magari dove e come la pesca ah non puoi neanche andare a far caver è vero è vero perché comprensano del cerchio e quando riapri eccolo eccolo galleggiantino ha fatto verso strano galleggiantino galleggiantino ha fatto verso strano guarda come spiffra guarda come spiffra galleggiantino mi rode una mano mi rode anche l'ano collaboratori fra domani e domani l'altro vi mando eppela ho visto che ha spettugiato l'ho visto che ha spettugiato il galleggiante ora sto un pochino più attento ho visto che ho fatto una tocchetta tutto eh lo so stanno per finirsi viaggiano come l'arena finiscano sì ragazzi ce ne avevo 34 pensate alle catture che ho fatto ho riempito la scorza nassa allora ho visto inizio live l'ho svuotata sto farmando alla velocità della velocità della luce no però si farma velocemente così stiamo usando praticamente ragazzi il tevere per per rifarci un po' quella che è i soldini per poter andare avanti con gli altri livelli perché con le gare c'eravamo piantati domenica in teoria aggiungerebbe stemmerando a nubi cacca si torna al palco onestamente non ho al momento non ho grandi idee da fare ma voglio fa voglio fare tanti catture mettere da parte tanti soldini e voglio fare la cacca no voglio mettere da parte un po' di quattrine e comprare un po' di attrezzatura decente ragazzi intanto il pod così le canne le metto a modino budello di suma poi devo allargare lo spazio nell'inventario devo comprare canne da pesca più potenti monofili più potenti le fave da donne che piacciono alle donne e male non fanno un po' tutti i petri il gareggiante è fermo non ci piace fermo così ormai sei fermo eccola e questo mi sa che allora forse forse è interessante cominciasse già un bel gattino questo qui non è enorme però però si fa valere non dovrebbe essere una carpa ora tiro fuori anche il galleggiantino e lo rilancio vieni vieni gattons vieni gattons la vabbè 109 di gattino nel momento di bassa siamo vabbè stiamo scendendo nella bassa va bene va bene va bene tutto grasso eccola bam ma io voglio fare una cosa però so che si scende nella bassa ma voglio provare una cosa caos voglio provare una cosa amico caos anche perché c'è più acquatico perché c'è rimasto c'è rimasto poco tempo e mi voglio spostare intanto in spostarmi vengo in room con te caos e voglio provare la mol cricket larva qui dovrebbe essere in room con te caos a regola credo se sei quello dalla parte di là dovrebbe essere in room con te allora proviamola qui la mol cricket larva allora lancia qui scioffete poi e poi quella a fondo che bene è proprio a fondo è a fidere è a fondo c'è il piombo poffete ok vediamo un po' qui come va la mole che trova poi siamo calata ora quindi mi aspetta un granché però non ce l'ho fatta entrare nella stanza the dog of the praetary al lago bifiche con pastura al krill e wafter da 8 mm che cos'è scusate il wafter da 8 mm siamo del 12 e finale del 20 al krill e wafter non so cos'è il wafter scusate la mia ignoranza ma non so cos'è il wafter sarà wafer forse wafer 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 sono le bandum aaa bandum allora dimmi bandum dimmi le bandum dimmi le dumbbell ma non mi dire wakata questo jingle è offerto per voi da i generali di pesca paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap oh dio qui il tempo vola lo so lo sai che ti piace in gola e che sono le bandi che cosa sono le bando stai lì stai fermo dormi in un angolo tranquillo e felice che nicola adesso te lo dice allora ok tutto 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 l'italia libera il papi però paio ha capito quelli della sono by telebandon vafter lo viste ora guarda eccole poi le facciamo vedere al fan solo però se si vedesse un pochino meglio se la carica bene ok allora sì ma io volevo solo l'immagine e vabbè ma chi è a pescaplanet vabbè se pescaplanet poi da sono le bandone quando riesco a cariallo totela ingrandisco così come riesco perché va un po di lento il complicato eccole qui queste sono le bandone 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 o dumbbell hanno 2000 nomi alla fine non sono altro che il risultato di una bolzza smaglita concetto è quello tonto ronon tonto ron 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 e qui non rendono eh io non vorrei cavolo ma questo è lo spot che temi dicetti questo è lo spotuber ci sto facendo nulla a questo spot non è mai stato però tanto redditizio a parte ripeto siamo nel momento di bassa magari c'ha le sue situazioni no magari questo non è il momento di pescare qua siamo alle 22 18 si aspetta un po vedo culi non vedo che siamo in argomento pesca sportiva giusto caos tiu 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 e e e e e e e e c'è la tranquillità il silenzio la passione quando ti dicevo che quando sponsorizzi qualcuno caos ma mi interessa vedi quando io sponsorizzo una ragazza come i tenei di pesca io mi aspetto questo risultato minimo minimo questo risultato invece mi arrivano tanti risultati diversi mi aspetto questo risultato mi aspetto questo risultato quando sponsorizzo una ragazza che va a pesca compri? bene invece sponsorizzo e mi arrivano foto e quelle che arrivano col cappotto e allora a menù non sia un fenomeno a pesca che poi tanto lo sai che alla fine sono io sono ignorante come il veleno caos se io ho visto l'aurea francese ma non mi interessa che dopo la voglio sponsorizzo capito? perché o sei un fenomeno a pesca allora ti sponsorizzo perché sei un fenomeno a pesca che tu sei un uomo o una donna ti vesto di tenei di pesca o la fai vedere e porti like con il tuo aspetto porti like porti visualizzazioni con il tuo aspetto se non sei fa pesca e non me le porti col tuo aspetto sei inutile è un caos cosa ho tirato fuori non lo so che aspetta un po' che c'è una cattura anch'io per una volta poi guardo devo abbassare la frizione come si faceva vai ma non è che ha fatto una fuga abbastanza mi scoppiava la canna da pesca vai ho alzato un goccino e ho lasciato una tacca ha fatto una partenza sarà una trota sicuramente perché ha fatto una partenza inumana non può essere un è infatti un gatto ma te sto gattito mezza sega vip fra un po' mi scoppia la canna ma vaffanculo alla petta guardo la chat è caos caos draco european grayling che cos'è scusa caos a parte forse è di qua che vedo no dove andà giù che cos'è un european grayling european grayling aspetta vado a vedere cos'è european temolo 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 eh quasi quasi no 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 che scherziamo quasi quasi eh quasi quasi provare un po' al temolo temolo vapa non dovevo il birino in questa stanza qui oh ragazzi ultimamente mi ci viene la ribugiolo perché è calda sta stanza qui ragazzi anche se apriamo la finestra e dopo un po' manca l'aria è una settimana che lo tento la realtà non c'è una vita privata però eh non è una vita una settimana che ti entri a provare temolo su fishing planet caos dobbiamo rivedere le tue priorità io da domenica finalmente lascio per 15 giorni il computer guarda ritorno su Augusto un vedo l'ora oh bimbi un vedo l'ora un vedo l'ora ritorno a fare lavori su Augusto stanco di buonestà il computer a fare montaggi poi dopo fra 15 giorni mi metto a fare la sigla dello street fishing però c'è sempre da scaricare il materiale caos penso che se riesco lo scarico domani mattina tanto mi ci voglio alle telecamere forse ho tirato un peto ragazzi e 20 minuti che c'è l'odore di merda mi sarò cacato addosso credo è impossibile 20 minuti l'odore di merda mamma mia che ora vado a cambiarsi le mutande e qui abbiamo in mente qui come andrà il bigattino si prova ci sono rimasti 5 minuti apriamo 5 minuti un po' di bigattino proviamo dai a meno del 10 e bigattino dai vediamo perché si tira fuori qui da meno del 10 e bigattino avrei anche voglia di giocare un po' a wall face dopo aver fatto un salto vado a vedere un po' di shooter che giocano madonna mia caos ma io non pensavo si è riempito ancora di più di shooters in una maniera impressionante wall luck god mode c'è di tutto c'è la gente che attraversa il muro già sparando gente che mi chiappa dalla parte opposta della mappa mirando dalla parte bellissimo bellissimo bisognerebbe fare solo un video solo per far vedere tutte le minchiate no biglietto per il messico mi sono perso qua il caio e cerchiamo devi comprare per capo verde un biglietto altro che il messico il bigattino come fa non c'è nessuno che lo sa capitan farlock capitan farlock fammi volare capitano col tuo ano forte e stretto urla forte lo saprai fammi volare capiano ma domani forse il video lo faccio uscire un po' prima perché sono di pomeriggio bigattino vediamo che ci dà il bigattino bigattino robina 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 sarà un rocino un rugiolino da dove viene oh la mia rugiolino un roccio nooo ma si è un trofico mi fa sparare anche fino laggiù provo a sparare laggiù vai last lancio per stasera poi chiudiamo dai bello quando lancio così lontano però mi fa quasi soddisfazione allora dicevamo capitano no addirittura subito così vabbè allora un po' che ci abbiamo e però un roccio dalla parte di là tutto sto per 80 metri di rocce tra le rocce maron po' che selezza è il bigattino eeeeeeee e�・・・ iiii eeeeeeee iiii 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 eeee portavo roccia la parte a parte va scena buona questa volta vibra intenso detto questo bimba ci è andata è stata una bella se un po fermate le visualizzazioni del del pesce tutto vedi nella specialista academy pensavo meglio invece però 109 mi piace ragazzi molto buono molto buono via bimbi è arrivata la veronica sarà stata col ganso per arrivare a quest'ora mi rispondo è andata direttamente su e questa la vediamo shift 2 ormai finiamo anche di riempire questa massa ci sposteremo domani sempre in tevere no domani che è sabato quindi domani non ci sono domani non ci sono e domenica vi ricordo che per i patroni esce il video dei patroni appunto volevo lanciare volevo recuperare questo l'abbiamo smontato tutto salutozzi dal tevere dai che siamo già quasi a 30 mila che ci si pida di 30 mila di canne fatto ci sarà tutto qui la bigalli caos secondo te costa 13.500 la bigalli che ne pensi 3 8 chili action fast 5 11 casting weight 70 140 buonanotte fave ci si vede domenica se ce la faccio se ce la faccio barangiate bacione ciao